Musica Musica In vista anche ai nostri campini, alla nostra istituzione inizia e prima lina, e poi nello giochiamo la nostra notte, e alla nostra città, sediamo la nostra pure strada. E poi così, la sua ultima d'America ragazzi, la mega ultima, dopo di che ci vedremo l'anno prossimo, qui a Lido Azzurro con una mega struttura, ancora che vi offrirà più servizi, e soprattutto tanto, tanto divertimento, quindi ripetendo la prossima estate, ce lo lasciamo nel cuore. E ci vediamo poi l'America prossima, per salutarci tutti insieme. E scusate, scusate, mi salta, ci sono tutte le grandi mancare, venga qui per favore. Signora, si accinga, si accinga alla plaza, prego, anche con il signor Pinto, perché il signor Pino, signor Pino, detto Pino Cantri. Pino Cantri, lo stivavo, lo stivavo. Mi man patuu lui? Ma stagi? Ma stagi? E si accorge? Ma stagi? Ma stagi? Ma staggia? Ma staggia? ... Grazie a tutti 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 Tutti lunedì e venerdì dalle ore 19 alle ore 20 Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti